Su cosa punta nello specifico Crescimarche? Gli abbiamo voluto dare questo titolo perché questi sono i primi bandi che partono per la nuova programmazione. Sono tre bandi che intervengono su tre aspetti specifici, che sono quelli tra l'altro indicati dall'Europa, la specializzazione in innovazione della ricerca, la capacità delle imprese di attivare tutte le opportunità del digitale e dell'ICT e l'opportunità di poter formare una collaborazione tra consulenti di altissimo livello, le nostre micro e piccole imprese per poter creare progetti e aggredire i fondi speciali che l'Europa mette a disposizione, che non passano attraverso la regione ma che invece si intercettano con i programmi gestiti direttamente dall'Unione Europea. Questi tre bandi hanno diverse caratteristiche e sono abbastanza innovativi anche nel tipo di costruzione del bando perché consentono all'impresa di poter partecipare senza essere gravate dai gravi costi di partecipazione ai bandi europei che purtroppo le leggi ci impongono e sulle quali non possiamo come regioni intervenire più di tanto. Nella locandina dell'evento si diceva pensare globale ma agire locale, quindi ha ancora senso in questi processi di globalizzazione e sviluppo che vanno oltre confine pensare a degli ambiti industriali ancora locali? Io penso che ancora i vantaggi competitivi siano ancora molto localizzati, quindi il territorio è ancora molto importante. Qua siamo da Guzzini e lo si tocca con mano. Nel territorio ci stanno gli skill, ci stanno le competenze, ci sta la cultura che per la nostra manifattura è un elemento di competitività fondamentale, però non si può pensare che il mercato locale sia sufficiente. Bisogna pensare in grande. Ormai la digitalizzazione spinta fa sì che la differenza e la distanza tra i mercati si sia ridotta al minimo. Quindi bisogna mantenere forti i radici territoriali perché lì ci sta la competitività vera, però bisogna subito sapersi proiettare nel mondo.